Un successo annunciato. Enrico Ruggeri ha incantato la platea del Salone delle Feste del Casinò di Campione, che ha accompagnato l'esibizione del cantautore milanese con scrosci di applausi e manifestazioni di consenso. La scaletta dello spettacolo, che ha alternato sapientemente vecchi successi e nuove canzoni, ha coinvolto il pubblico in un crescendo di emozioni. Scoppiettanti i bisfinali, con i fans sotto il palco impegnati ad immortalare gli ultimi momenti di una serata memorabile. Enrico Ruggeri, che è apparso in grande forma sia fisica che artistica, ha incontrato prima dell'esibizione la presentatrice della serata, Elisabetta del Medico. Ciao Enrico, allora come va? Bene, tutto bene, tra un po' proviamo, poi mangiamo, poi suoniamo, tutto bene. Direi che questa location non è nuova per te, quindi ritorni al Casinò di Campione d'Italia. Com'è la sensazione, l'emozione? Sì, credo sia la quarta volta, più un concerto invece qua nella piazza Antistana. Va bene, insomma, ho sempre incontrato gente simpatica, abbiamo fatto dei bei concerti qua, poi c'è gente che arriva anche da lontano, perché poi quest'anno non ci sono date in Svizzera, per cui anche i nostri amici svizzeri hanno la loro data. Un anno importante è questo e anche un tour importante, Pezzi di vita, come mai hai scelto questo nome? Perché c'è una canzone in realtà nell'album che si chiama Un pezzo di vita, allora mi è sembrato che Pezzi di vita potesse essere un buon titolo per un album che è un doppio, dove c'è un CD dove io ho rinciso le mie prime canzoni, insomma quelle dall'80 all'85, quindi quelle dei Decibel, Contessa, Polvere, Mare d'Inverno, insomma tutte quelle. E poi invece tra gli inediti c'è una canzone che si chiama Un pezzo di vita, che comunque era perfetta, insomma, come titolo. Siamo in trepidante attesa di ascoltare il tuo concerto questa sera, però prima vorrei che tu dedicassi una delle tue canzoni al Casinò e anche a me. Quale scegli? Beh, in genere noi iniziamo con Ria Nevaplu, però forse quest'anno la saltiamo, perché tutte le volte che va in un casino inizio con Ria Nevaplu. Noi ci pensiamo. Mi sembra giusta. Grazie Enrico, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.